Imprese creative per rilanciare il territorio dell'Oltrapò Mantovano. Grazie all'omonimo bando promosso dal Consorzio d'Area della provincia di Mantove da Camera di Commercio sono sei le nuove realtà imprenditoriale formatesi in questa zona della nostra provincia. Le varie mission differiscono sensibilmente ma sono unite dal comune denominatore di un rapporto stretto e bionivoco con il territorio in cui si sono formate, come ci ha spiegato il Presidente del Consorzio d'Oltrapò Mantovano, Alberto Manicardi. Ovvero i distretti, il Consorzio promuove questo tipo di iniziativa con l'auspicio che diventino queste imprese il valore aggiunto da un punto di vista di rilancio in chiave culturale appunto del territorio stesso. Applicazioni per iPhone, magazine online, vetrine elettroniche, promozione del territorio in senso stretto ma anche tradizione e modernità fusi insieme nel settore dell'abbigliamento e una video fotolibreria. Queste le proposte delle nuove imprese creative dell'Oltrapò presentate oggi in Camera di Commercio. Un risultato importante dopo un 2012 caratterizzato in negativo dal sisma e per il 2013 è già pronto un nuovo bando.